Non poteva che essere un tripudio di applausi e risate. La puntata di Avanti Un Altro di domenica 12 aprile infatti ha visto il graditissimo ritorno di Paolo Bonolis sullo sgabbello, che per qualche mese ha lasciato a Gerry Scotti e che per 16 puntate condividerà ancora con lui. Concorrente dopo concorrente, i due hanno trovato quella sintonia necessaria per condurre un programma frizzante come Avanti Un Altro. Bonolis e Scotti insieme hanno quindi funzionato nonostante le differenze tra i due e in men che non si dica la trasmissione balzata tra i trend topic di Twitter. Dobbiamo però dire la verità. Il ritorno di Bonolis ha scatenato gli utenti che non hanno lesinato complimenti nei suoi confronti. D'altronde in questi mesi Scotti ha ricevuto non poche critiche sui social. Bonolis è sempre il migliore, ha cinguettato una sua fan, a cui ha fatto eco il commento di un altro. Non c'è niente da fare, Avanti Un Altro e Paolo Bonolis